Ti sei mai osservato, osservata? Pensi scarsità o abbondanza? Vivi con pensieri di scarsità o di abbondanza? Vi spiego meglio. I pensieri di scarsità sono quelli connessi un po' alla paura che ti mancherà qualcosa, non per forza cose materiali ma persone, amicizie, qualsiasi cosa che possa essere importante per te e per la tua vita. I pensieri di abbondanza invece sono la certezza e la fede che tu nel momento in cui avrai bisogno di qualcosa, in qualche modo, anche se non sai come, questo qualcosa arriverà nella tua vita. Ovviamente i due tipi di pensieri ti portano a vivere in un modo completamente, anzi in due modi completamente diversi perché i pensieri di scarsità ti trattengono, ti portano a controllare le situazioni, ti portano a muoverti nell'ambito del conosciuto, quindi a vivere una vita diciamo più monotona, più ristretta. I pensieri di abbondanza ti portano ad una vita più movimentata, avventurosa, con nuove possibilità, ti permettono di andare incontro allo sconosciuto, all'ignoto e di vivere più pienamente. Anche perché nel momento in cui tu incontri qualcuno se hai un pensiero di abbondanza ti muoverai con fede e ti aprirai a questa conoscenza, a questa possibilità. Invece con pensieri di scarsità magari ti chiuderai delle porte, ti metterai in uno stato di paura, di controllo. Quindi il mio invito è proprio quello di valutare ogni volta che fai un pensiero se stai pensando connesso alla scarsità o all'abbondanza, alla paura o all'amore. Perché ricordati che ogni tuo pensiero crea una realtà. Ovviamente la realtà che tu stai creando è frutto dei tuoi pensieri e quindi impara ad osservarti e a scegliere consapevolmente i tuoi pensieri, il tuo sentire e come ti vuoi rapportare alla vita, agli altri, alle occasioni e a tutto ciò che può accadere. Mi raccomando è importante perché in quel momento, in questo momento e in ogni momento tu stai creando la tua esistenza. Se noti che i tuoi pensieri sono connessi alla paura ci puoi lavorare, ci puoi fare qualcosa. Oltre che osservarti che il primo passaggio fondamentale ed importante puoi lavorarci con la Divine Connection. Questo ti aiuterà ad andare oltre, ad aprirti al nuovo, ad aprirti a nuove possibilità, ad aprirti a creare una vita più piena di gioia, più piena di felicità, più piena di occasioni, più piena di possibilità che ora magari non riesci neanche ad immaginare. Quindi mi raccomando se non l'ho io ancora fatto, entra nel nostro gruppo Facebook Divine Connection dove potrai confrontarti con nuovi amici e lavorare su di te proprio per permetterti di andare oltre quello che ti sei permesso fino ad ora. Un abbraccio di luce e al prossimo video. Ciao! Grazie! 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 Grazie!